Master Green Life. Master Green Life è l'ultima creatura bottossa. È una costola che deriva direttamente da Master Green. Il nome ovviamente richiama in questo senso. Master Green Life è un contenitore. È un contenitore di che cosa? Di un concetto fondamentale, che è quello del basso impatto ambientale. In un mondo che si sta sempre più rivolgendo verso un discorso di natura, di naturale, di rispetto in tutti gli ambiti, Master Green Life si inserisce, a bomba, a maggior ragione, all'interno di questa propria definizione, cioè di creare qualche cosa di importante per quanto concerne la creazione e la cura dei tappeti erbosi. Come? Con interventi a basso impatto ambientale, con tecnologie decisamente improntate per il rispetto dell'ambiente e con una completezza di gamma di prodotti, dai liquidi, dalle sementi, dai fertilizzanti di tipo granulare, che possano rispondere in ogni istante, in ogni ambiente, in ogni momento, in ogni condizione, a ciò che viene richiesto dall'utilizzatore, sia esso privato, sia esso professionista, sia esso una rivendita che poi fa commercializzazione del prodotto. Master Green Life è determinante, il concetto bottos è molto semplice. Come faccio ad avere un prato sano e bello? Master Green Life!